Musica Tribunale non doveste accettare la proroga chiesta dai liquidatori, niente piano di risanamento e default inevitabile. Civitavecchia e i comuni limitrofi al voto domenica e lunedì, tutto pronto per l'allestimento dei seggi e si vota per il Parlamento e la Regione. Palla nuoto nella stessa giornata di Serie 2, la SNCNL di scena ad Anzio ancora fuori, Alessandro Calcaterra. Ben trovati dal Tg Alto Lazio, il presidente del Tribunale di Civitavecchia potrebbe non concedere la proroga di 60 giorni chiesta dai liquidatori di HCS per la presentazione del piano di risanamento. Se ciò dovesse accadere, per la società si prospetta soltanto il fallimento, ma sentiamo i dettagli nel nostro servizio. Se la proroga di 60 giorni chiesta dai liquidatori al presidente del Tribunale di Civitavecchia per la presentazione di un piano di risanamento non dovesse essere accettata, per HCS non c'è scampo, nemmeno la vendita la potrà salvare. Il Comune infatti non avrebbe il tempo materiale, la scadenza per la presentazione del piano è ad oggi fissata al 7 marzo, per indire un bando di gara per la vendita della società e sarebbe costretta a dichiarare il fallimento. Ed è questo lo scenario ad oggi più probabile, perché con la MAD che vanta un credito di circa 5 milioni di euro e che non è disposta a ridurre nemmeno di un centesimo, e i crediti vantati da altri soggetti, anche loro non disposti ad arretrare, i liquidatori non hanno nessuna garanzia da portare all'attenzione del presidente del Tribunale per ottenere la proroga. Intanto continuano a prospettarsi interpretazioni diverse su quello che è stato il risultato finale dell'incontro di maggioranza di qualche giorno fa. Da una parte infatti c'è chi ha affermato che anche Selle ha preso coscienza della situazione drammatica in cui versa HCS, dall'altra l'assessore Serpente ha tenuto a precisare che Selle non ha compiuto nessun passo indietro sulla vendita. E poi c'è il vice sindaco Enrico Luciani che addirittura parla del raggiungimento di un accordo per la creazione di una società a totale controllo pubblico che scongiurerebbe una volta per tutte la vendita anche parziale della società. Ma non comprendere dove, come e quando sia stato raggiunto questo accordo è il consigliere di maggioranza Stefano Giannini. Anche lui presenta la riunione di maggioranza. Non vedo addetto come il vice sindaco Enrico Luciani possa sostenere accordi mai sottoscritti in una riunione in cui peraltro non era presente. La verità è quella già espressa nei giorni scorsi, una situazione economico-finanziaria drammatica che impone a ogni forza politica di non scartare alcune ipotesi, nemmeno quella della vendita totale o parziale della holding comunale. Le elezioni in bacchetta non danno alcun diritto agli amministratori di nascondere la verità, soprattutto quando si parla di lavoro e di dipendenti. Firmato a Palazzo del Pincio un protocollo d'intesa tra amministrazione comunale Asso Balneari Literale Nord Lazio per la costituzione di un tavolo tecnico permanente che porti all'approvazione definitiva del PUA. Scopa del documento? Fornire un valido e costante supporto all'amministrazione comunale nella scelta da intraprendere onde incentivare, si legge, e promuovere le attività turistico-economiche sul territorio, nonché nella stesura dello strumento normativo e tecnico-operativo di disciplina delle attività turistico-balneari. Così facendo, amministrazione comunale e Asso Balneari si impegnano reciprocamente a condividere una proposta del PUA, mediante un percorso di lavoro condiviso il quale dovrà contenere le informazioni e fornire le scelte da attuare e da sottoporre all'amministrazione comunale nella fase di stesura del documento PUA e dei suoi allegati. Inaugurati questo pomeriggio il parco e la nuova sede ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Presenti al taglio del nastro il sindaco Pietro Tidei, l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi e i rappresentanti regionali, provinciali e locali dell'associazione. La data delle elezioni sia regionali che nazionali si avvicina e dal comune dettano le istruzioni per l'uso, se le sentiamo in questo servizio. La data delle elezioni si avvicina e dal comune dettano le istruzioni per l'uso. Chiunque non abbia ricevuto a domicilio la tessera elettorale e chi l'ha smarrita e si trova a doverne chiedere un duplicato, potrà farlo presso gli uffici del comune fino a domani dalle 9 alle 19. Uffici aperti anche domenica 24 febbraio dalle 8 alle 22 e lunedì 25 febbraio dalle 7 alle 15. Per poter raggiungere il proprio seggio di voto, il comune di Civitavecchia ha istituito a favore degli elettori non deambulanti e portatori di handicap un adeguato servizio di trasporto. Chi è interessato può prenotare il servizio chiamando i numeri 0766 22 862 Telefax 0766 590 502 0766 590 510 0766 590 506 0766 590 507 0766 20286 Telefax nei giorni di venerdì 22 febbraio dalle 9 alle 19 sabato dalle 9 alle 19 domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Per quanto riguarda il rilascio delle carte d'identità invece gli elettori potranno recarsi presso gli uffici comunali sabato 23 febbraio dalle 9 alle 19 domenica 24 febbraio dalle 8 alle 22 e lunedì 25 febbraio dalle 7 alle 15. Il comune inoltre rammenta che gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune rispetto alla quale sono iscritti previa esibizione unitamente alla tessera elettorale di attestazione medica rilasciata dalla ASL nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale oltre che nelle citate giornate consultive dalle 9 alle 12 presso l'azienda sanitaria locale in via Cadorna 14. Siamo alla giudiziaria confermata la condanna a 6 anni di reclusione per Paolo Morra l'ispettore di polizia che nel gennaio del 2009 sparò con un fucile a pompa al senegalese 42enne Sheikh Mori Diouf uccidendolo nel corso di una lite avvenuta in una località di campagna in zona Campo dell'Oro dove i due risiedevano a pochi metri di distanza l'uno dall'altro per lui si sono spalancate le porte del carcere di Rebibbia. Si torna a parlare dell'ambianto e dei danni provocati su diversi lavoratori civitavecchiesi esposti nei decenni scorsi nello stato di salute precario di ciascuno di essi e delle singole battaglie intraprese collina per il riconoscimento di un diritto diritto che se qualcuno è riuscito a strappare altri si sono trovati ancora a combattere per ottenere la semplice ammissione come nel caso di Emilio Cisciani che diversi anni fa ha lavorato presso la centrale di Fiumaretta per tre anni al porto in qualità di ormeggiatore 18 anni esposto quotidianamente alle polveri come testimoniato da alcuni suoi colleghi una questione inspiegabile quella di Cisciani al quale sono stati riconosciuti solo i tre anni di esposizione all'ambianto legati al lavoro svolto in centrale e per il porto niente nonostante il suo stato di salute racconti un ispessimento pleurico e i medici lo abbiano già messo in relazione all'ambianto anche alcuni enti pubblici della compagnia portuale e della Capitaneria di Porto hanno testimoniato a favore di Emilio Cisciani raccontando il tipo di lavoro svolto presso lo scalo cittadino alla presenza di amianto ma a quanto pare la pratica avviata nel 2003 è destinata a subire una trafila ancora lunga prima di arrivare a maturazione i ricorsi presentati dal lavoratore al nodo dell'Inail sono arrivati in appello ora sulla questione dovrà esprimersi la Cassazione cambiamo decisamente argomento si lamentano i residenti di via Montanucci e via Arcangelo due anni che il lato sinistro di via Montanucci viene inondato da una fuoriuscita di acqua ad ore alterne proveniente da una tubazione che ha sbocco su una finestra raso marciapiede una fuoriuscita che con il passare del tempo è divenuta sempre più frequente e il disagio arrecato ai cittadini è facilmente immaginabile un corso d'acqua che rende difficile anche il transito dei pedoni ma ora diamo spazio un piccolo break di pubblicità a seguire ancora la nostra informazione a seguire il risultato di pubblicità